E non troviamo il coraggio di affarmare, e mi faccio il caffè. Il bar della cultura è sempre vuoto, chiedo un caffè macchiato per favore, dell'indecenza umana, che un po' fa male, ma ce ne vuole almeno un po'. Nasce la tragedia, tragedia sempre umana, entra a Nietzsche che saluta Gaia con indifferenza, è la sua scienza, è la sua scienza, è la sua scienza, è la sua scienza. Un po' più avanti in un cantone, povero Marx, gli si avvicina, gli si avvicina, un po' Platone. Iniziano a parlare del maledetto capitale accompagnati da un buon tè e un po' di acqua naturale. Non chiedermi perché abbia scelto questo posto per aver da dire che la cultura non ha prezzo e qui la valuta non meno di un caffè. Meno di un caffè Ognuno come può e ognuno come il suo bisogno, sulla poetica di Aristotele piano piano disegniamo il nostro sogno. E se ho la necessità, voglio dire ci sarà, un nazista che marcisce sulla marcia del tuo bacio in bocca a me. E parlerò ed urlerò quanto sei bella tu cultura e di te io mai mi accontenterò finché c'ho sete, finché c'ho sete, finché c'ho sete di te berrò. Non chiedermi perché abbia scelto questo posto per aver da dire che la cultura non ha prezzo e qui la valuta non meno di un caffè. Meno di un caffè La valuta non 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 meno di un caffè Grazie a tutti.